Scongiurato il rischio di ritrovarsi la maggioranza di consiglieri di espressione politica contraria alla sua, Miglio riparte. Il presidente si rimette in sella e sprona Palazzo Dogana al governo del territorio provinciale. Prima di partire però dovrà risolvere la grana politica consegnata dalle urne domenica scorsa. Chi sarà il suo vice? L'intraprendente Rosario Cusmai, l'uomo di fiducia di Leo Di Gioia o Angelo Riccardi, sindaco di Manfredonia indicato direttamente dal segretario del PD, Raffaele Piemontese? Il ballottaggio traduce chiaramente le forze politiche nell'area del centro-sinistra, dove l'avanzata del movimento dell'assessore regionale crea sempre più imbarazzo ai vertici del PD. Leo Di Gioia ha confermato il suo potenziale di consiglieri ne ha piazzati quattro, esattamente quanti nevante il Partito Democratico. Non sarà un gioco di forza, ma poco ci manca. Tutto sta a chiarire, una volta per tutte, lo spazio che il PD dovrà lasciare alle civiche dell'assessore, un movimento sempre più dirompente che sta conquistando seggi in quasi tutti i comuni della Capitanata. Per il Partito Democratico è giunto il momento di decidere aprire ufficialmente le porte all'ex delfino di Antonio Pepe o chiudersi nel fortino, dove comunque dovrà acquiettare le acque delle correnti, prima di tutte quelle di Elena Gentile, l'europarlamentare che sta preparando il congresso espodestare piemontese, che ritiene illegittimo alla guida della segreteria provinciale. Non è una scelta di poco conto, anche perché i conti il PD dovrà farli con Emiliano, che non intende assolutamente privarsi del sostegno dell'assessore all'agricoltura. E allora sarà difficile che la vicepresidenza di Palazzo Togana bada al sindaco di Manfredone Angelo Riccardi. Al fianco di Miglio la riconferma di Cusmai sembra scontata.